ciao questo breve video per promemoria dell'eclissi lunare parziale del 17 settembre 2024 che sarà appunto a 25 gradi dei pesci ovvero la prima delle eclissi che poi caratterizzeranno il 2025 sull'asse nodale pesci vergine l'eclissi lunare del 17 settembre a 25 gradi nel segno dei pesci sarà molto molto potente e questa sua potenza servirà anche a farci entrare nell'ambito delle energie che con cui poi ci troveremo a lavorare fino al 26 luglio giorno del compleanno di mia madre e oltre che sant'anna appunto del 2026 questa è e sarà una eclissi molto importante per i cosiddetti operatori di luce di tutto il mondo che saranno energeticamente uniti telepaticamente uniti a lavorare grazie a un'unione del cuore con l'universo e dio e il suo piano per aiutare la causa comune che è la causa della creazione prima ancora che quella dell'umanità è una causa che è rivolta alla protezione alla salvaguardia di tutte le creature e in particolare di quelle creature che fanno tra virgolette le spese anzi senza virgolette della diciamo componente incosciente umana e quindi dell'inconscio umano collettivo basta vedere anche creature intendo anche la stessa foresta amazzonica che brucia i ettari di foresta che bruciano e vengono a cui viene appiccato il fuoco perché il legname perché gli interessi e così gli animali i deboli gli invisibili quelli che purtroppo anche a volte non hanno una voce e la loro voce si perde nel nulla e non hanno come dire la possibilità di difendere se stessi e quindi gli operatori di luce cosiddetti o definiti di tutto il mondo si uniscono energeticamente spiritualmente per elevare la frequenza collettiva e per elevare la coscienza collettiva al fine di salvaguardare il pianeta e tutte le sue creature ci viene chiesto da gaia stessa e il sistema di gaia che include anche i rapporti tra eliosfera e scudo elettromagnetico ci viene ricordato di porre bene il fuoco sulla nostra interconnessione non solo tra noi esseri umani ma tra noi e le singole foglie e le singole formiche che camminano la superficie del pianeta tra noi e ogni singolo granello di polvere del cosmo e la connessione naturalmente gli uni agli altri come quegli individui scelti per capacità che possono essere custodi e guardiani della bellezza di questa creazione connessi gli uni agli altri così come siamo connessi alla grande madre all'universo da cui tutti proveniamo prendiamoci del tempo per noi stessi amore rivolto anche all'elevazione della frequenza personale durante questa potentissima eclissi lunare sebbene parziale sarà una super luna e quindi una luna all'ipogeo e dunque la potenza dell'eclissi viene esponenzialmente accresciuta amplificata magnificata lavoriamo con il nostro cervello sinistro quello logico e razionale e il nostro cervello destro quello intuitivo creativo recettivo quello che è stato nascosto viene rivelato viene alla luce idealmente proponiamoci di entrare nel flusso dell'asse vergine pesci la terra che la vergine rappresenta governata da mercurio se dio vuole viene tra virgolette rilasciata come parte del passato collettivo e lo spirito pertinente al segno dei pesci al suo simbolismo governato da nettuno il senza limiti diventa il futuro collettivo la terra e l'acqua suggeriscono attraverso la simbologia delle carte anche quelle dei tarocchi appunto di essere come l'angelo della temperanza e come l'arcano maggiore della stella con i numeri 14 il primo e 17 il secondo e il 17 è un numero estremamente importante in questo ciclo prossimo di eclissi e anche lo è stato diciamo per quanto riguarda l'asse nodale degli scorsi 5 6 anni l'aspetto più prossimo all'eclissi e dove viene espresso questo senso di autorità che viene a ricordarci un potere che è diretto e sano e giusto real perché allo stesso tempo è un potere non prettamente unicamente young ma è anche recettivo saggio amorevole protettivo materno viene essere rappresentato da nettuno che si troverà a 28 gradi del segno dei pesci gli aspetti creativi spirituali il perdersi tra virgolette nello spirito per ritrovarsi la consapevolezza spirituale viene intensificata ma naturalmente come suggerisce gaia a livello sistemico assicuriamoci a terra ovvero abbiamo la nostra ancora per mantenerci al sicuro leghiamo la barca bene in maniera tale che i flutti non ce la portino lontano a largo alla deriva rimaniamo ben ancorati e naturalmente rimassiamo e restiamo in contatto con la realtà il cambiamento prossimo 111 con un 2 che possiamo tradurre con un 11 porta a noi l'energia di un 5 su queste tre carte e quindi la nostra energia sia allineata e sintonizzata concorde armonica si intoni all'energia dei pesci ovvero con grazia danziamo in questo eternamente cangiante principio in cui siamo incarnati e attraverso il quale siamo venuti qui in questo qui e ora a condurre la nostra esperienza di incarnazioni precedenti per la guarigione del passato e del futuro da questo esatto momento presente così che possiamo apprezzare il rilascio del vecchio e la nascita del nuovo l'eclissi lunari sottolineano il tema della fine e dei finali l'energia dell'eclissi lunare l'energia che celebra la dipartita mentre le energie diciamo dell'eclissi solari inaugurano e sottolineano gli inizi c'è un grande potere trasformativo e tuttavia l'eclissi soprattutto nell'ultima casa la dodicesima casa dello zodiaco nel segno dei pesci ci ricorda che quando qualcosa finisce sul piano fisico si continua a vivere nel regno spirituale universale e questa eclissi viene a ricordarci l'unità dell'essere con quello che è appunto un connotato di conclusioni mentre ci avviciniamo alla sua controparte il 2 ottobre 2024 con l'eclissi solare a 10 gradi della bilancia prima di salutarvi con questo e quindi salutarvi con questo breve promemoria ricordo che farò un video in merito al cambio dei nodi lunari che sarà l'11 12 gennaio 2025 ma io considererò l'11 come frequenza 11 di gennaio 1 quindi 11 19 per arrivare appunto a un altro 12 prima di salutarvi voglio farlo con una carta o due da questo mazzo che si chiama il mazzo degli operatori di luce l'oracolo degli operatori di luce prima di scoprire queste due carte su gaia abbiamo sia onesto con te stesso tutte le tue sensazioni anche quelle difficili tutte le tue emozioni anche quelle difficili hanno un messaggio di crescita per te quindi accetta la tua verità e quindi permette alla sorgente di riprendere la conduzione da questo punto di accettazione in avanti un altro 555 siamo già a un 55 in queste quattro carte rispetto all'autorità si focalizzato e centrato veritiero e netto non farti distrarre dalle piccolezze di questo piano della realtà di questa dimensione la trivialità di questa dimensione non farti distrarre dai tuoi obiettivi sia assertivo determinato conduci te stesso con un fuoco saggio e certo e con autorità l'arcangelo metatron e l'arcangelo michele sono qui per aiutarci a rimanere radicati perché la frequenza di cambiamento è potente quindi vogliamo accompagnarla come in una danza appunto con grazia e fluidità e questo cambiamento ci apre è una pri pista ci apre la strada ci apre il cammino questa spada taglia la boscaglia e ci permette di procedere e questa spada in questo specifico contesto rappresenta la nostra unione a gaia la nostra capacità di radicamento non sei in trappola gioisci le possibilità e le opportunità abbondano non sentirti condannato a un destino a un percorso prendi la conduzione del tuo cammino sarai guidato alla tua libertà personale e spirituale 5 5 5 con un 9 centrale che non cambia l'essenza della sincronicità 5 5 5 la divina grazia e la legge dell'efficienza 32 32 per arrivare a un 64 ovvero la completezza dell'universo fisico l'universo in generale nel suo principio unitario dato da 2 32 il cuore l'unione e anche la saggezza l'intelligenza con noi gli antenati la divina grazia e la legge dell'efficienza con un 5 che si aggiunge agli altri tre e il 17 della famiglia di luce che viene a noi per quanto riguarda questa divina grazia vi porto il messaggio dal libro relativo a questo oracolo soprattutto per definire anche la legge dell'efficienza che ci incoraggia a lavorare come dire meno spesa e più resa e quindi lavorare con intelligenza in maniera più intelligente piuttosto che più duramente e imparare anche a accogliere l'onda che ti conduce arriva e che ti porta in salvo e non remare controcorrente e non remare da solo usare le correnti come insegna l'aquila quando cavalca la termica per elevarsi ulteriormente nel suo volo quindi piantare il seme nel giusto tempo così che la natura si occupi della sua crescita questo ci ricorda anche usare correttamente il vento del cambiamento è questo il tempo per la nostra vita di diventare più facile più semplice semplificare tempo per camminare la via della divina grazia con fede semplicità e accettazione non complicartela ulteriormente perché le energie di campo sono energie che ci sfidano sono energie complesse di un karma complesso che quello umano e quindi non dobbiamo sforzarci per far accadere le cose il buvei l'idea di segui lasciare che le cose accadano possiamo agire in maniera aggraziata senza attaccamento e nella fede che tutto sarà esattamente come si presuppone come il piano divino come dio presuppone che sia e proprio nel modo migliore in cui potrebbe essere e quindi arrendi le tue preoccupazioni e i tuoi tormenti ora arrendili in questo momento con queste eclissi salutali saluta la loro dipartita celebra onora esegui un rito simbolico un funerale per i tuoi tormenti per i tuoi malesseri per le per tutti i meccanismi che ti tengono imprigionato in una frequenza illusoria o meglio in processi mentali illusori che però generano una frequenza tutt'altro che illusoria una bassa frequenza che non permette l'elevazione è l'utilizzo corretto della spada della coscienza che è spada di verità e dello spirito santo l'utilizzo corretto della comunicazione che spada a doppio filo con te stesso sii onesto questo è l'uso più efficiente della tua energia e ti condurrà ai risultati migliori che non saranno solo per te i migliori risultati ma anche per chi è attorno a te perché se accompagni il cambiamento mosso dalla saggezza superiore questo cambiamento può in un'immediatezza farti sentire penalizzato in qualche forma ma nel grande piano non fermarti al tuo piccolo orticello bensì espandi perché quello che può penalizzarti in una virgola oggi è funzionale a un periodo complesso e ampio e perfetto e quindi non ostiniamoci, non accaniamoci con quello che riteniamo dovrebbe essere ricordiamoci quel detto anche quello che è, non è e quello che non è, è che è di Alice se non sbaglio nel Paese delle Meraviglie i limiti che l'umanità mette sul suo concetto di amore, sull'amare non possono più imprigionare, limitare il nostro cuore il nostro amore è per tutto e per tutti e dappertutto e in ogni tempo siamo capaci di amare l'umanità di amare tutta la creazione sulla terra di amare una famiglia spirituale che è una famiglia estesa e che non è solo quello che ti sta bene, quello che non ti sta bene quello che ti sta bene perché ragiona come te ed è risonante ma è un concetto ancora più elevato perché è un concetto di compassione è il saper vedere con gli occhi della madre e quindi guarire anche la madre, la radice materna così come automaticamente si guarisce quella paterna e amare tutto come se fosse nostro questo è il senso corretto di proprietà perché siamo fatti per appartenere a una famiglia di luce più ampia e per questa vita diciamo le problematiche che hanno caratterizzato le nostre famiglie di incarnazione potrebbero ancora condizionarci in questo senso di essere a proprio agio con l'amore, con la vita perché questo dolore era parte di come questi legami familiari si erano strutturati al fine di correggerci e liberarci necessari per sperimentare le lezioni utili in questa incarnazione ed essere utili non solo a noi stessi e ai nostri personali progetti ma a un progetto compiuto, universale, unito totale come appunto un unico organismo l'invocazione relativa alla famiglia di luce benaleggo io scelgo per la mia propria e libera volontà di ricevere tutta l'assistenza dall'amore incondizionale così che io possa pacificamente processare qualsiasi ferita irrisolta qualsiasi rifiuto, abbandono, giudizio o tradimento ho imparato come amare più incondizionalmente attraverso le mie esperienze ho imparato che l'amore permette a tutti gli esseri di scegliere liberamente come desiderano vivere desidero vivere con apertura, amore e connessione nello spirito e nella carne con coloro che possono accettare il mio amore e amarmi attraverso la divina grazia io chiedo questa assistenza nell'attrarre una famiglia di luce una famiglia di anime celeste e umana a due e a quattro zampe che io possa sperimentare un senso di appartenenza e un'idea cosciente della comunità condividendo la mia luce e amore con gli altri attraverso l'amore incondizionale e incondizionato e incondizionabile possano tutti gli esseri sentire la benedizione di una vera famiglia di un amore profondo e infinito così è ciao